Chi semina raccoglie. Quanto di più vero. Ha maggior ragione nel settore agricolo. Ma lo sai anche tu. Ciò che raccogli oggi dipende dalla cura dedicata a ciò che hai seminato. Consapevolezza che ha permesso a FMC di affermarsi tra i leader mondiali nel settore agrofarmaci. Oggi nel suo portofolio sono presenti prodotti innovativi come i biostimolanti. Tra questi l'ultima novità è Simac Risa. Riduce gli stress abiotici delle piante assicurando una migliore crescita e una maggiore resa produttiva. Grazie ai suoi antiossidanti naturali inoltre abbassa efficacemente l'incidenza negativa degli stress. Attiva in anticipo i naturali meccanismi di autodifesa delle piante e ne stimola la fisiologia. Permettendole di esprimere al meglio il proprio potenziale genetico. Ciò è frutto dell'accurata attenzione che FMC presta a tutte le fasi della filiera. Ricerca scientifica. Studi specifici condotti in laboratorio dai nostri ricercatori specializzati. Produzione. Impianti tecnologicamente avanzati garantiscono tracciabilità e sicurezza. Vendita. Formiamo soluzioni sulle quali c'è la nostra firma garantite da approfonditi controlli qualità. Non solo. Anche nel posto vendita siamo sempre presenti. La nostra assistenza è costantemente a tua disposizione grazie agli esperti FMC in grado di fornirti pieno supporto tecnico direttamente sul campo. Chiedi maggiori informazioni al tuo tecnico di zona.